Gentili telespettatori, buona giornata. Carlo Calenda contro Giannini contro la sinistra, perché Calenda che arriva dal Partito Democratico, la grande casa della sinistra, anche lui stufo già da diverso tempo, si è staccato dal PD e lo guarda anche con un certo disprezzo. E così si sgancia da Renzi, viene incalzato il leader di azione da Lilli Gruber, insomma Carlo Calenda è un bel personaggio nel senso che è difficile metterlo in difficoltà perché Calenda ti attacca, quindi un confronto tra Lilli Gruber e Carlo Calenda, insomma, nessuno dei due si può permettere di sbeffeggiare o cercare di mettere in difficoltà l'altro perché l'altro reagisce e anche abbastanza fortemente. Siamo nella trasmissione di sinistra otto e mezzo, nella televisione di sinistra la sette, con gli ospiti di sinistra. Eh, perfetto no? La conduttrice di la sette, Lilli Gruber, dice a Calenda, a livello personale sono dispiaciuto ma mi sono accorto, dice Calenda, che non si può fare un partito quando si hanno valori diversi. E Giannini dice addirittura, sì sì, il suo pensiero era come riuscire a infilarsi nel governo di destra, il mio invece è continuare a fare qualcosa per trovare punti che ci uniscono sulle cose importanti come la sanità, come è accaduto per il salario minimo. Quindi Calenda lo dice, Renzi il suo unico pensiero era come infilarsi nel governo attuale. Poi Calenda si sofferma sull'emergenza migranti, dice da fonti viminale l'Italia ha lo stesso numero di migranti irregolari, ma dove vanno? Vanno in altri paesi europei. Quindi la redistribuzione è già in atto, questi prendono, camminano e finiscono negli altri stati. La soluzione secondo Calenda è fare accordi con i paesi di partenza o come li definisce la conduttrice con i dittatori. Quindi la Gruber dice secondo lei si fanno accordi con i dittatori? Calenda dice si fanno accordi con i paesi di partenza. Sì, anche la sinistra lo dice, ma li giudica solo quando non è più al governo. Quindi la sinistra quando governa fa gli accordi con i dittatori, come dice Lilly Gruber. Però quando è all'opposizione è con i dittatori, quando è al governo la sinistra fa accordi con altri paesi. Quindi si trasformano in dittatori, che poi sono dei dittatori alcuni, diventano subito dittatori, chiaramente, palesemente, e dichiaratamente dittatori, perché c'è la destra. Se oggi c'era il governo Letta, diventavano accordi e basta. Parole che non trovano d'accordo Giannini, perché Giannini fa quello di sinistra, che contesta il numero uno di azioni. La principale colpa del governo Meloni è quello di aver promesso lo stop agli sbarchi, mentre ora questi sono quadruplicati. Piantedosi è arrivato a dire che è un problema che hanno ereditato. Falso. E Calenda dice non è colpa della Meloni, è colpa di una crisi geopolitica. E poi dice ma dai Giannini, sei un giornalista di sinistra, lo sappiamo, stai continuando a attaccare la Meloni in maniera pregiudizievole, con un pregiudizio fazioso. Quindi attacchi la Meloni sapendo di starla attaccare, sapendo di, come si può dire, sapendo di attaccarla per un fine propagandistico elettorale. Quindi è colpa della Meloni che gli sbarchi sono quadruplicati? No, non è colpa della Meloni, è colpa di una situazione geopolitica che c'è in questo momento. Certo il problema è questo. Il fatto è che se hai sbandierato in campagna elettorale il blocco navale subito, poi arrivi al governo e del blocco navale non ne parli più, non dici all'elettorato il perché non lo vuoi fare più, perché non esiste dichiarazioni della Meloni dove dice l'Italia non può fare il blocco navale per questo motivo, allora lo deve fare l'Europa per quest'altro. Non l'ha mai detto. Questione di soldi? Costa troppo? Forse è quello. Dillo, no? Dillo, dillo. Ti fai intervistare da porro, da del debbio, gli dici prima di farti questa domanda e tu fai il comizietto su Rete4 e dici ho promesso il blocco navale ma abbiamo fatto i conti, abbiamo fatto un preventivo di spesa annuale e non ce lo possiamo permettere. Quindi il punto è questo, non è che è colpa della Meloni degli sbarchi, il punto è che avendo promesso di bloccarli come prima promessa elettorale col blocco navale e oggi di blocco non si è parlato e sono quadruplicati, questo è il problema, avere promesso questo e oggi succede completamente l'opposto, questo è il punto, questo è il punto. Non che è colpa di Meloni se sono quadruplicati gli sbarchi ma il punto è aver promesso di fermarli col blocco navale e poi non averne parlato più. Voi direte, ma Giorgia Meloni ha ancora il 30%, quindi vuol dire che cosa vuol dire? E quindi vuol dire che cosa vuol dire? Vuol dire che l'elettore di centrodestra è chiaramente deluso dagli sbarchi quadruplicati. Anche il tifoso più accanito, anche il tifoso più accanito è deluso, tutti. Solo che perché allora la Meloni è ancora al 30%? Perché in altri casi l'elettorato in dieci giorni ha già cambiato partito, casacca e già inneggia un altro capo politico. Perché nel caso di Meloni non c'è una fuga dell'elettorato, è matematicamente semplicissimo, perché l'elettore non saprebbe per chi votare. L'elettore di Fratelli d'Italia oggi è un elettore che era andato via da Forza Italia, è un elettore che in gran parte era finito nella Lega, un elettore poi deluso dalla Lega, è finito in Fratelli d'Italia, quindi la gran parte degli elettori di Giorgio a Meloni sono elettori che hanno girato tutti i partiti di centrodestra. Hanno inneggiato a Berlusconi, a Salvini, adesso a Meloni, dicono vabbè, non ce ne sono più, sono finiti, che facciamo? Torniamo con Salvini, andiamo a Pontida con la camicia verde? Oppure andiamo a cantare sotto il palco mentre Tagliani parla? È Forza Italia! Quindi l'elettore di Fratelli d'Italia di oggi rimane lì perché dice, dove vado? Che faccio? Vado a votare per la Schlein? Come se fosse Antani? Sbiliguda? Grazie a tutti e arrivederci a presto!